Il secondo giorno in Pink Jersey, come era il tuo stagio? E' stato un stagio davvero bello, il sole si stavano e le ruote erano davvero bellissime E' stato un'altra cosa che mi piace, quindi oggi è stato perfetto per me E' un'altra cosa? Non lo so, ma ho visto il profilo Il clima è un lungo, ma non troppo stagio Penso che sia possibile mantenere il giro in avanti, ma vediamo Hai cercato di controllare il breakaway, magari nella prima parte della stagio? Con il tuo stagio? Dependente di chi è in Ma credo che ci sono anche team GC che vogliono andare per la stagio in avanti Quindi credo che non sarei l'unica stagio in avanti Grazie Grazie mille Vi aspettate molti attacchi di altri GC riders in avanti In finale Non lo so Non lo so Ma il gradiente non è troppo alto E' difficile da capire Non lo so E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Ma non lo so Non lo so Ma non lo so Ma la prima cosa E' un'altra cosa E' chi? Cosa farà di attacchi e extendi la loro ligu? In mezzo In mezzo Mi piacerebbe Se sò che mi puoi stare in fronte Ma Ma non lo so Ma cosa ne so Ma non lo so Grazie Grazie